Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità, l'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Caro amico ti scrivo e non sei Marco Travaglio. Di Travaglio ho letto un libro molto bello sulle tangenti alla Fiat e l'ospitai per la prima volta per parlare di Luciano Moggi, che per ruffianarsi gli arbitri usava regali e prostitute. Travaglio è juventino, Moggi era il dominus assoluto della Juventus e le inchieste su calciopoli non erano ancora partite. Dissi, cavolo, questo veramente è un giornalista di razza, un giornalista di talento, e gli proposi subito di lavorare con me. Ma Repubblica gli offrì un contratto a tempo indeterminato e ci rincontrammo più tardi, quando Berlusconi scagliò un attacco terrificante contro la RAI. Che cosa era successo? Che Daniele Luttazzi aveva parlato con Marco dell'odore dei soldi, un libro sull'origine della fortuna del Cavaliere Berlusconi, scritto a quattro mani con Elio Veltri. Nacquero con Travaglio protagonista le trasmissioni criminali per le quali fui cacciato per due anni da tutte le televisioni italiane. E quando tornai decisi di fare di Marco Travaglio il mio confine, la mia bandiera, il mio simbolo nei confronti del potere politico e della censura. Non ci sarebbe stato più niente di cui non si potesse parlare nella televisione pubblica. Difendendo questo confine, questo simbolo, penso di aver contribuito perlomeno un poco a toglierci dalla faccia quella vergogna nei confronti del mondo per aver sopportato il più spudorato conflitto di interessi che la storia dell'Occidente ricordi. E lottando contro la censura sono diventato molto amico di Marco Travaglio. Sono diventato amico di Daniele Luttazzi, amico di Montanelli, amico di Enzo Biaggi, amico di Adriano Celentano. Di tante persone diverse da me, qualche volta molto distanti da me e molto differenti dal mio modo di pensare. Pensavo che il nostro paese sarebbe diventato più libero, più civile, più democratico, più tollerante, più rispettoso delle opinioni più diverse. E che tutti noi poi ci saremmo sentiti liberi di affrontare diverse avventure. Ognuno una sua nuova avventura. E anche se oggi sono tentato di farlo, devo dire che non sono ancora disposto a dire ho perso, mi sbagliavo. Caro amico, ti scrivo ma non sei Grillo. Anche per dare la parola a Grillo ho rischiato il licenziamento, ma ero convinto che il suo movimento avrebbe dato una scossa tale al sistema che lo avrebbe costretto a cambiare, a rinnovarsi in profondità, completamente. Invece è successo che il sistema è crollato. E che Grillo si è fatto un po' stato, ma nonostante gli insulti dei suoi manipoli armati di computer, nonostante le espulsioni, nonostante i 2000 euro che ho versato puntualmente agli alluvionati, senza avere in cambio quell'intervista che probabilmente lui darà di nuovo a porta a porta, non sono pronto a dire che su Grillo mi sono completamente sbagliato. Caro amico, ti scrivo perché tu assomigli molto a me, solo che io sono costretto a restare in questo programma e tu te ne sei andato via e non credi più a niente. Noi siamo quelli che non si spaventano quando vedono qualcosa di rosso, che si rifiutano di lasciare all'ISIS e ai fondamentalisti islamici la bandiera dell'uguaglianza, che vedono nell'ebola non la peste, ma la povertà, la sofferenza, a cui noi abbiamo condannato milioni di esseri umani che hanno pagato per i nostri privilegi. Ci sono tante persone che hanno messo i sacchi di sabbia davanti alle finestre, vogliono costruire muri invalicabili, si sentono già in guerra. Noi contro loro. Ma loro chi? E quanti sono questi loro? E se fossero questi loro a dichiarare guerra a noi tutti insieme, quanto ci costerebbe questa guerra? Caro amico, ti scrivo perché mi distraggo un po' e sono terrorizzato da queste periferie degradate dove poveri, bianchi, neri, colorati, si scannano per un pezzo di pane e per un lavoro. E il governo guarda da un'altra parte. Caro amico, ti scrivo perché voglio incontrarti di nuovo, voglio continuare a sperare. L'anno che sta arrivando, fra un anno, passerà. e io mi sto preparando. E questa è la novità.